Buonasera. Buonasera Veronica. Ma questa cosa di paroliera fatta in casa è stupenda, mi piace molto, mi sa di artigianale. La mia parola però è pablito. È pablito. Scusa, lo dico ridendo perché il pensiero e il ricordo è bello, è bellissimo, è rasserenante. Per cui mi fa piacere parlare di lui. In realtà è stato, penso di poter dire, il primo fidanzato serio che ho avuto. Lui non l'ha mai saputo, naturalmente. Io avevo 17 anni, era l'82 e chi non ricorda quel mondiale eccezionale, bellissimo, dove c'era una squadra eccezionale per carità, un grande allenatore, un presidente della Repubblica fuori di lui che assisteva alle partite, che ci incoraggiava. Però è chiaro che poi l'eroe è stato lui. Io mi ricordo che ho comprato, spendendo ben 5.000 lire, un vestitino di nylon, 5.000 lire, che erano poche anche allora, bianco, rosso e verde. Mi sono inerpicata su un lampione in piazza del Duomo dopo la finale e sventolavo come una bandiera, come se fossi la più grande, a satanata tifosa. Non ero minimamente una tifosa, non seguivo il calcio. Però quel momento è stato per l'Italia eccezionale. Quello è stato un momento in cui anche le moltissime donne si sono, per carità, le donne spessissimo seguono il calcio. Allora molto meno. Io poi sono tornata a non seguire il calcio, ma quel momento è stato magico per tutti. Secondo me, oltre che appunto essere stata una squadra eccezionale, dove c'erano grandissimi giocatori, però poi c'era l'eroe, che era lui, che era proprio Paolo Rossi. E io, quello che ho sempre notato in quest'uomo, che non ho mai conosciuto, nonostante sia stato il mio primo fidanzato serio, era la grazia. Ma non la grazia in campo, io non mi permetto di parlare perché c'è gente che se ne intende molto di più e che può dire la sua, ma la grazia proprio di questo signore, di quest'uomo, di questo campione. Quando rispondeva alle interviste, quando diceva la sua, quando lo vedevi in televisione, era un uomo aggraziato. E secondo me, è anche per questo che piaceva, è piaciuto tanto alle donne, perché era un uomo, da un certo punto di vista, rassicurante. Essendo un eroe, essendo un uomo potente, era l'esatto contrario del macio, perché ha saputo unire, secondo me, un momento di forza assoluta, perché poi lui è stato veramente il più forte in quel mondiale. Era potentissimo, fortissimo, maschissimo, ma non macio. E secondo me, ha saputo usare, ha saputo essere femminile in qualche modo. Ed è secondo me il motivo per cui a noi, a tante di noi è piaciuto tanto, a me mi rassicurava, ma a tante donne è piaciuto. Io lo dico per tutti quegli sportivi che esagerano con la propria virilità, con un, secondo me, un malinteso significato di virilità. Perché? Perché non c'è nessun bisogno di essere prevaricatori, di essere violenti, di essere inutilmente muscolosi. Appunto, lui più che macio era maschio, era uomo, che è tutta un'altra storia. E poi ti dirò un'altra cosa che a me piaceva, vabbè, qui si vedono delle immagini stupende, che a me piaceva moltissimo il suo modo di esultare. Spessissimo, ovviamente i calciatori, dopo che fanno una bella azione, mettono la palla in rete, è chiaro che esultano. Beh, io ho notato tante volte, durante le partite, quando mi capita di vederle per tre secondi, non di più, vedo questi che esultano in maniera sottotraccia un po' violenta, delle volte un po' aggressiva. Cioè sembra che l'esultanza sia anche un po' l'umiliazione dell'avversario, che hai vinto. Quell'esultanza strafottente. Ecco, lui era uno che esultava così, cioè proprio braccia larghe. Siccome la politica dei gesti è importante, lui era, e dice sempre la verità, lui era aperto. Esultava con queste braccia, perché questo sorriso, che era proprio un sorriso, davvero voleva dire quello. Mi faceva piacere ricordarlo e volevo abbracciare, visto che lui ha abbracciato tanto noi, e volevo abbracciare la moglie, che è stata presente in maniera bellissima e molto potente in questi giorni. Volevo che gli arrivasse anche il nostro abbraccio. Grazie, sicuramente. Tra l'altro, molte immagini che abbiamo visto, mentre tu parlavi, Veronica, sono tratte dal libro Quanto dura un attimo, scritto da Paolo Rossi, con Federica Cappelletti. Tu Aldo, guarda, ne parlava benissimo adesso Veronica, nel tuo ricordo sul Corriere hai scritto che c'è un'immagine proprio che rappresenta Pablito, no? Che dovremmo avere qua alle spalle, che poi è quella stessa della copertina del libro, anche lui era la scelta. Perché anche tu sei stato catturato da questo? Perché l'immagine, quando alla fine della semifinale con la Polonia, lui indica il tabellone del Camp Nou, che allora era nuovo davvero, dove c'è la scritta e l'ombre del partito è Spauro Rossi, parentesi Italia. E tutto era nella parentesi. Perché in quel momento l'Italia ha cambiato umore, quel mondiale ha chiuso gli anni di piombo, gli anni degli scontri ideologici e ha aperto una stagione diversa. Grazie anche a Pertini, grazie anche al lavoro di un presidente che sarebbe venuto dopo, un altro grande toscano nato in questi sesti giorni, cent'anni fa, Carlo Zeglio Ciampi. Abbiamo potuto di nuovo non vergognarci dell'inno, del tricolore, della parola Italia, della parola patria. È tutto cominciato nell'estate dell'82. Grazie a Paolo Rossi. E lui stesso ha scritto nella sua autobiografia, voglio essere ricordato così, maglia azzurra, braccia al cielo e l'ombra del partito, è Spauro Rossi, Italia. E noi lo vogliamo veramente ricordare così.